Benvenuti al Salotto alle 8, buonasera Laura, oggi ospite in studio il rocker italiano Pietro Peluche, buonasera Pietro. Sì, hai eliminato i vostri profili su X, sì ha iniziato a piovere, piove sul bagnato, piove in Italia, governo la droa, io sono Pietro Peluche, il mio nome è Peluche, 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 il mio nome è Peluche, mamma mia il diablo! Vabbè, vabbè, allora Pietro, grande momento il tuo, il brano soldato, primo in classifica, trasmette un messaggio importante, ce ne vuoi parlare? Io ho il messaggio, viva la pace, viva la fratellanza, viva l'iguaglianza, viva i diritti umani e soprattutto viva la figa! Eh vabbè, ho capito, però cerchiamo di migliorare l'energia, ok? Su Pietro, su! Anche io sono una cantante, ora sto imparando a suonare una pastiera, ho anche la batteria, non la trovo, che peccato l'ho persa, ho anche i piatti, per fare la DJ, ma non ho le posate, ti piace il mio senso del comicismo? Allora Pietro, prima di iniziare la carriera solistica, avuto anche altre esperienze? Sìììììì! Allora, prima di iniziare ad essere il frontman dei barman, con cui ho scritto capolavori come È il mio porco che cambia nella forma e nel colore, ho soprattutto spiritoa, etilicoa, e sto contentoa, quando mi parli dentro, oa! E poi precedentemente sono stato il frontman dei cameraman a più riprese, perché in quel periodo alternavo progetti solisti dove c'era tanta figa, a progetti con loro, sedizioni e esibizioni con loro, dove c'era altrettanta figa, ma anche con il barman c'era altrettanto figa! Vai di go a rock'n'roll! Prima di concludere, Pietro, vuoi dare un ultimo messaggio ai telespettatori? No alla guerra! Sì, alla figa! Eh vabbè, abbiamo capito. Buonasera Laura, buonasera Pietro! Sigla! Ci vediamo domani, ci vediamo domani, vediamo anche di no! Sigla! Ciao, ciao! Chi sei bravo, chi sei bravo! Sì! Vai di go a! Sigla!